segui la sette anche su instagram la sette ovunque con te scrivi la prima volta che ho fatto ridere qualcuno non l'ho fatto apposta succede spesso non è come diceva a te quanti anni avevi in quel racconto che semi autobiografico avevo quasi quattro anni frequentavo l'asilo e come spesso accade a natale scelgono un bambino lo mettono sulla sedia e deve recitare la poesia del una caso una caso sfortunatamente quell'anno capitò a me no io ero terrorizzato da questa cosa qua e e quando dovetti aprire bocca per dire il primo verso della poesia in realtà dissi mi sono fatto la pipì addosso e come vedi come adesso succede anche allora dopo una pausa lungamente eduardiana il parroco rise tutti gli altri sorriso anche loro e quindi la cosa andò bene però quell'episodio lì mi ha fatto riflettere sulla sulla comicità non che io abbia il segreto della comicità è perché uno di quelle cose misteriose che si parla si parla ma non si viene mai a capo però mi sembrò quella volta che la comicità è un meccanismo per alleviare la paura che sia degli altri l'altri l'altro no in quanto altro in cinti morisce ci impaurisce no e allora il fatto che che quel bambino aveva tanta paura di quelli il fatto che tu riesca a farli sorridere quel sorriso lì praticamente da quel sorriso lì scompare tutta la minaccia e quindi ti senti rilassato e mi sono chiesto se si provoca un allegro mi sono domandato se quello può essere uno dei dei motivi per cui uno decide di fare il comico però questo lo lasciamo è molto bello non è la prima volta che sento un grande comico dire che ha scoperto di essere comico mentre faceva il tragico mentre doveva fare la parte dell'attore o comunque esatto citare una poesia impegnata e scopre che di far ridere è un dono è un dono rarissimo cambiamo pagina e quindi ridiamo un po meno perché che cosa ci vi ricordate che cosa ci dicevano mentre eravamo chiusi in casa per colpa della pandemia mai più taglia la sanità aumento del numero dei medici e dei servizi di base è sicuro resistete